Stand by, sei in contatto, Agente Gribbs. 3, 2, 1... Strappa Giappa! E tu chi diavolo sei? Tuo fratello, ci ho messo vent'otto anni, ma finalmente ti ho trovato. Oh mio Dio. Ho scelto il momento sbagliato. È tuo fratello! Devono sapere che sono qui. Ci cuciamo le labbra. Le tue, le mie no. Parla della sua vagina. Congratulazioni comunque, a che mese sei? Non sono incinta, sono solo grassa. Dove sei stato tutti questi anni? Sono un agente segreto, lavoro per un reparto dell'MI6. Tranquillo, è blindata. Non ci fate niente, abbiamo i vetri antiproiettile. Tira su! Ci sono 7 miliardi di persone su un pianeta che può ospitarne solo 5. Degli innocenti moriranno se non la fermo. Non ti lascerò fare tutto da solo. Arrivo! Ieri era un giorno come tutti gli altri. E oggi, guarda qua, si va a salvare il mondo. Ah, Gesù! È mio fratello, ha bisogno di me. Uccidete quegli idioti. Nel dardo c'era una tossina, morirò se non me la succhi fuori. Assolutamente no! Si è spezzata! Non ti preoccupare, la faccio io la spia, fratello. Buon Dio! Ok, Nobby, seduci la gente col vestito verde. Non puoi non notarla, è incantevole. Oh, sì, è incantevole. Devo scopare in camera? Da cima a fondo. Fogli a me, fogli a me, ride! Sì, è incantevole.